Il climatologo ha studiato il clima, il ghiacciaio, la temperatura, ma adesso deve parlare con lo psicologo sociale che gli spieghi perché le persone avvertite di un pericolo girano la testa dall'altra parte e non vogliono affrontarlo. Nimbus è un po' un esempio della volontà di comunicare gli aspetti legati al clima, alla meteorologia, che peraltro pesca da un'esperienza molto lontana, perché io non ho fatto altro che proseguire ciò che i miei maestri ottocenteschi, maestri che ho conosciuto soltanto sui libri perché già scomparsi da centinaia d'anni, avevano voluto fare con la fondazione della Società Meteorologica Italiana nel 1865, un'associazione nazionale proprio con il fine di divulgare quella che allora era una scienza recente, nascente, potremmo un po' dire come l'informatica oggi. Questi padri fondatori, meteorologi, ma anche comunicatori, credevano fortemente che la conoscenza diffusa a un grande pubblico avrebbe portato a un progresso nella qualità della vita delle persone. sapevano benissimo che la meteorologia era un'informazione importante per l'agricoltura, per i trasporti, pensate la marina dell'Ottocento, cosa voleva dire con delle previsioni ancora inesistenti si può dire, era un rischio per la vita ogni giorno che le navi si mettevano in mare. Quindi c'era una forte volontà di fare cultura e lo fecero fondando un bollettino, si chiamava Bullettino della Società Meteorologica Italiana, che portava ovviamente a un pubblico ristrettissimo perché pensiamo quanto poteva essere l'alfabetizzazione nell'Ottocento. Quindi un bollettino stampato che conteneva notizie varie di quello che era successo nei mesi precedenti con delle tabelle, dei numerini, la temperatura, la piovosità, l'altezza della neve e i fatti più salienti nonché i progressi scientifici che venivano lentamente acquisiti in quegli anni. E tutto rimane più o meno così fino alla Seconda Guerra Mondiale. La guerra causa lo smembramento delle associazioni, la nostra che aveva sede nel collegio Carlo Alberto di Moncalieri vicino a Torino, in una grande scuola religiosa di formazione dei quadri dirigenti dell'antico Regno d'Italia, perché pensiamo che l'Italia nasce a Torino nel 1861, poi la capitale viene trasferita poi a Firenze e a Roma e quindi tutto quello che era nato insieme allo Stato Unitario a Torino in parte rimane qui, ma in parte poi si perderà per strada come accadde nella Seconda Guerra Mondiale. Ecco, arriviamo poi noi, io e il gruppo di giovani collaboratori negli anni Ottanta a salvare questo capitale che si stava perdendo, cioè l'Osservatorio Meteorologico di Moncalieri, che è uno dei più prestigiosi d'Italia, attivo appunto dal 1865 e la rivista che nel frattempo si era fermata nel 1944 e noi abbiamo semplicemente riattivato con un nome nuovo, un nome più moderno, un nome internazionale, proprio Nimbus. Ma di fatto vedete che non abbiamo fatto altro che continuare sulla scia di quello che molto tempo prima altri meteorologi con mezzi molto meno potenti di quelli di cui disponiamo noi avevano fatto, con gli stessi intenti. Oggi poi è arrivato Internet, tieni presente che Nimbus noi la rifondiamo e la facciamo partire nel 1993. Internet non c'è praticamente ancora, sta facendo i primi passi e sono gli anni dove abbiamo tutti noi i primi telefonini. Ecco, mi ricordo che tra il 92 e il 93 cominciamo a vedere in giro i primi telefonini. Quindi siamo ancora fondamentalmente in un mondo cartaceo e la rivista nasce cartacea. Solo più tardi, verso il 1996-97, arriverà l'Internet per tutti e quindi aggiungeremo anche la parte digitale. Ma la rivista ancora oggi rimane fortemente cartacea per volontà di garantire il passaggio di conoscenza al futuro. Crediamo che Internet sia una eccezionale fonte di informazioni, ma ancora è effimera. Chi garantirà la conservazione dell'enorme quantità di informazioni sul web? Mentre la carta, fortunatamente, resiste secoli e ben ordinata in una biblioteca trasmetterà al futuro l'informazione. Quindi il compito di Nimbus è anche questo, fare cultura ma anche trasmettere le informazioni che nel clima sono fondamentali, cioè i dati. E invece rispetto al passato, quindi come prima questa rivista lavorava, cosa avete un po' cambiato in termini anche di articoli? Che cosa pubblicate? Come comunicate anche con il pubblico? Allora, la prima cosa che cambia rispetto all'Ottocento è la presenza delle immagini. I bollettini ottocenteschi sono soltanto a caratteri, difficilissimo in una rivista mensile, diciamo, pubblicare le immagini nell'Ottocento. Erano tutte delle incisioni, figuriamoci, erano riservate soltanto ad alcune riviste particolarmente di grande circolazione. Quindi compaiono nella nostra Nimbus nuova le immagini a colori. Abbiamo subito pensato che per parlare di meteorologia, di atmosfera, di clima, le figure fossero fondamentali. Sia i grafici, quindi le figure tecniche diciamo, che comunque hanno molto bisogno del colore per essere ben interpretate, sia le fotografie degli eventi. Quindi una rivista riccamente illustrata, a colori, che si può proprio leggere su due piani. Se uno vuole, legge solo le didascalie delle figure e ha già una narrazione. Se vuole approfondire, si legge il testo e le tabelle, che quelle rimangono come era invece nell'Ottocento. Poi chiaramente c'è la quantità di informazioni che oggi ci vengono da un mondo che nell'Ottocento non esistiva. Pensiamo ai satelliti. Tutto quello che è l'osservazione dell'atmosfera in remoto è un capitolo che ha offerto possibilità nuove per conoscere molto bene il clima terrestre. Non è che non circolassero le informazioni internazionali. La cosa bella è che se ti leggi i numeri ottocenteschi, comunque le notizie arrivano. L'ente, magari mesi e mesi dopo, ma ci sono le notizie di grandi uragani in America, di freddi eccezionali in Russia. Ci sono, però sono chiaramente. Noi le vediamo oggi in tempo reale su internet, dove la rivista addirittura è già obsoleta oggi dal punto di vista cartaceo. L'informazione ci arriva sui telefonini, la vediamo ora per ora. Ma è importante poi filtrarla e consegnarla all'archivistica. In questo senso la carta è importante. Quindi noi comunque ripubblichiamo sulla carta una buona sintesi di tutte le informazioni che circolano frettolosamente sulla rete. Sì, diciamo occupandoci di comunicazione più o meno nello stesso ambito, quindi della sostenibilità, del contrasto ai cambiamenti climatici, siamo convinti dell'importanza della comunicazione per rispondere ai problemi ambientali. Ovviamente, come hai detto anche tu, più che da un punto di vista fisico, la comunicazione, cioè dal punto di vista fisico, la comunicazione non può influire direttamente sulle emissioni di CO2, sul riscaldamento globale e sui fenomeni climatici, però può comunque essere uno strumento formidabile per portare alla luce gli allarmi ambientali e responsabilizzare le persone riguardo a quello che possono fare e sono in grado di fare. Infatti qui ti aggiungo subito, perché mi viene in mente adesso, un potente strumento comunicativo che noi nella nostra rivista abbiamo portato sempre avanti in questi quasi 30 anni di attività. Per esempio, i confronti delle fotografie dei ghiacciai come erano 100 anni fa e come sono oggi. Ecco, questo è un esempio di comunicazione, possiamo dire, anche per non addette ai lavori. Basta reperire vecchie cartoline, vecchie immagini di come erano i ghiacciai tra fine ottocento e inizio novecento e confrontarli con la situazione drammatica di oggi dove hanno perduto il 60% di superficie e nel caso di quelli piccoli si sono addirittura estinti e questo noi sulla rivista l'abbiamo fatto tantissimo, proprio per portare alle persone con un occhio visivamente, senza bisogno di interpretare grafici difficili, gli effetti del riscaldamento globale. Certo. Infatti, proprio in questo senso, dal punto di vista dell'interpretazione, hai detto più volte nelle tue precedenti interviste che tu, in quanto uomo di scienza, divulgatore scientifico, eccetera, sei spaventato o comunque intimorito dai dati a cui tu hai accesso, soprattutto perché tu sei in grado di capirli a pieno, mentre invece credo che la maggior parte delle persone non abbiano gli strumenti per farlo. Quindi, secondo te, qual è il modo migliore per comunicare dei dati o comunque delle previsioni tanto complicate a persone che comunque devono in qualche modo capirle e prendere responsabilità? Io penso che la lezione della pandemia sia molto analoga, cioè ci permetta di trovare una chiave di lettura anche per i problemi ambientali e climatici. Il primo punto, secondo me, è fidarsi dei professionisti di quella disciplina, di quel comparto scientifico. Io di virus capisco poco. So a stento come sono perché li ho studiati nei miei esami di biologia, però non sono un esperto virologo del settore. Quando è scoppiata la pandemia di coronavirus, io semplicemente mi sono fidato delle informazioni che ho ricevuto da quel settore della scienza. Poi, come sempre, uno deve averne tante informazioni, perché ci sono in mezzo anche virologi forse meno ortodossi o che hanno detto anche delle castronerie in qualche momento. Siamo uomini e ci sta che in mezzo ci possono essere delle visioni anche non corrette, diciamo così, ma solo la minoranza. Nella maggioranza dei casi basta leggersi articoli anche divulgativi, ma scritti da esperti del settore e io mi fido. Ecco, questo è il primo punto. Ci vuole un sacco di tempo per approfondire ogni argomento oggi, perché la scienza è diventata profondissima rispetto all'Ottocento. Noi oggi conosciamo un'enormità di dettagli in più. Quindi è ovvio che ognuno di noi è specializzato in un campo modesto e sugli altri deve fidarsi dei suoi colleghi. Così anche il grande pubblico. Io non chiedo alle persone di fare uno sforzo di studiarsi la climatologia come l'ho fatta io, perché ci vuole una vita. Io chiedo lo sforzo di dedicare un po' di attenzione, che sia superiore al classico video da un minuto, dallo slogan dell'informazione di oggi, per assumere il riassunto di quello che noi abbiamo capito. Ecco, il sommario, i dieci punti fondamentali. E allora a questo punto, così come io ho imparato i comportamenti per non essere infettato dal virus, dai miei colleghi e come tutti noi, dalla televisione, dagli articoli di giornale, così chiedo che anche sui problemi climatici si dia fiducia al settore scientifico. Troppo spesso invece questo è inquinato dai negazionisti, che spesso afferiscono ad altre materie, questa è la cosa interessante. Cioè, noi abbiamo un negazionismo che non arriva dai rappresentanti ricercatori della climatologia, arriva da scienziati di altre discipline che per motivi vari, interessi economici, ideologici, si gettano nel campo dei colleghi e pretendono di insegnare loro il mestiere. Purtroppo poi la gente non fa più differenza. Diciamo, è uno scienziato, è un premio Nobel, poco importa se è il gastroenterologo che parla del virus. Anche nel campo dei medici non è lecito, se hai le emorroidi, andare dallo psicologo. Sono tutti e due medici, ma io ho bisogno del protologo in quel momento lì. E quindi, nello stesso modo, fidarsi dei ricercatori, ma del settore di competenza e non ascoltare chiunque parli solo perché si definisce scienziato, ma anche premio Nobel. Il caso di Rubbia in Italia è molto interessante, senatore fisico, premio Nobel, che però ha invaso il settore della climatologia con delle considerazioni assolutamente scorrette e purtroppo però ha speso la sua autorevolezza creando confusione tra le persone. È giusto, vale molto di più la parola di Rubbia di quella di Mercalli. Io non sono un premio Nobel, lui sì, però lui ha parlato di clima non essendo esperto del settore mentre è un fisico delle particelle. Io non capisco niente di particelle elementari e mi guardo dal parlarne. Ecco quindi come ritengo che le persone oggi possono accedere comodamente all'informazione strategica sui temi ambientali, semplicemente con un po' di oculatezza scegliendo le fonti opportune. Nimbus è una rivista di nicchia, è una rivista di settore per amatori, per tecnici, non è in edicola, ma facciamo mille copie a numero, non siamo in grado di competere con quella nella mainstream. I modi per diffondere l'informazione mainstream sono per noi, le interviste con i giornali, con la televisione e sul web. I problemi generali del cambiamento climatico oggi si possono tranquillamente riassumere nei punti fondamentali in un articolo di tre cartelle. Certo, ma comunque al di là del discorso che facevi tu, quindi di come una personalità può essere influente a seconda della sua reputazione. Perché credi che le informazioni provenienti dai negazionisti attecchiscano di più nelle persone piuttosto che una comunicazione come la tua scientifica basata su dati concreti? Ma semplice, prima di tutto perché sono comode. Le informazioni negazioniste fondamentalmente dicono il problema non c'è, se anche c'è non è colpa tua, non devi fare nulla per risolverlo, continua a vivere esattamente come prima. È come un fumatore di fronte a un medico che gli dicesse fumare fa bene oppure fumare fa male, devi smettere, ti ammalerai. Chi ascolti tra i due? E il fumatore ascolterà quello che gli dice fumare fa bene, anche se non è vero. Ecco, questo è il primo problema, un problema assolutamente psicologico, antropologico, la rimozione di un problema scomodo che infastidisce, che turba la propria vita, che ci mette di fronte a delle scelte, che crea un senso di colpa magari, perché nel caso dei problemi ambientali tutti siamo un pochino responsabili, chi più chi meno. E nel momento in cui capisco e accetto il problema, automaticamente devo fare i conti con la mia coscienza. Ah, prendo la macchina. Ah già, però uso della benzina. La benzina aumenta l'effetto serra. È veramente necessario? Posso andare a piedi, in bicicletta o rinunciare? Sto a casa? Ecco, tipico è il caso dell'aereo. L'aereo è il mezzo più inquinante. Oggi lo si usa, lo si è usato fino al Covid, in modo veramente banale, per fare viaggi in sulsi, un turismo addirittura mordi e fuggi, con i voli low cost. Nel momento in cui ti accorgi che il tuo volo contribuisce fortemente al riscaldamento globale, devi fare una scelta etica. Cioè, o me ne frego e continuo, oppure rispetto il bene comune, il futuro dei miei figli, dei miei nipoti, e rinuncio. Ecco, in un popolo molto sensibile ai problemi ambientali, che è la Svezia, la Svezia che ha dato origine al fenomeno Greta Thunberg, si è addirittura generato una parola che io adesso non so dirvi, che vuol dire vergogna di prendere l'aereo. Cioè, la gente ormai ha maturato questa responsabilità e quando deve prendere l'aereo quasi quasi lo dice sottovoce e si nasconde. E se invece respingi il problema all'origine, cioè il riscaldamento globale non c'è e comunque se c'è non è colpa mia, io domani vado alle Maldive, me ne frego, non ho sensi di colpa, non devo rispondere da nessuno e soprattutto non devo rischiare di pagare una tassa sul carbonio domani che mi farà costare quel volo molto di più. Tutto questo complesso di motivazioni rende più appetibile l'informazione negazionista di quella realista. Sicuramente però ti sarai ti sarai interrogato su come rendere anche la tua informazione che è scientifica più appetibile, più stimolante. Vero, vero. Quindi comunque devi contrastare un po' questa tendenza da parte dei negazionisti per cercare di, come dire, portare, come dire, portare, cioè essere tu a vincere questa sfida. Allora, è molto difficile perché intanto il negazionismo spesso fa leva su delle menzogne. La menzogna è facile da dire, io porto sempre questo esempio. Adesso faccio incazzare i miei colleghi astrofisici e dico che i buchi neri sono fatti di cioccolato fondente al 95%. Quanto ci ho messo a dire questa stronzata? Cinque secondi. Cinque secondi per dire una stronzata, cinque ore minimo per confutarla. Adesso sono problemi degli astrofisici. E un altro che dice ma guarda Mercalli che stronzata che ha detto. Ti dimostro io di cosa sono fatti i buchi neri. Dai, fallo. Pulla madonna. Adesso è difficile perché devo partire da una quantità di assunti di fisica complessa, gravitazionale, galattica. E da che parte comincio a spiegarlo a te che non sai che cosa sono i buchi neri? A quello al bar magari è molto più semplice pensare veramente che siano fatti di cioccolato fondente. Adesso è l'astrofisico che lentamente dovrà partire da come funziona l'universo fino ad arrivare a dire che la mia ipotesi è assolutamente una stupidaggine. E tra l'altro io potrei ancora ribattergli. Ma andiamo a vedere. Magari è così. Ci sei stato tu in un buco nero potrei dirvi al mio collega astrofisico. Ma tu ci sei stato in un buco nero. No. E quindi riaprirei nuovamente il dubbio negli altri. Io lo so benissimo che con le leggi fisiche si può dimostrare che non è fatto di cioccolata. E quindi il mio amico astrofisico ha assolutamente ragione ma ci riempie dieci lavagne di formule per dimostrarmelo analiticamente. Al bar non ce la fa. potrei vincere io e dire ma abbiamo ragione tutte e due. È di cioccolata fino a prova contraria. Andiamo in un buco nero a prenderne un pezzo e a verificarlo. Nessuno ci può andare e la cosa rimane lì. Ora il problema del buco nero è però fondamentalmente marginale. Cioè questa querelle non porta a nessun cambiamento della nostra vita quotidiana. Che sia di cioccolata o che sia di merda è uguale. invece nel caso del riscaldamento globale il problema è che coinvolge l'economia il tuo stile di vita le cose che potremmo fare un domani il rischio di sopravvivenza dell'umanità. Ecco perché sul problema climatico ed energetico e della sostenibilità si litiga mentre sui buco neri litigano all'interno della comunità ma fuori non arriva nulla. Cioè ci possono essere due astrofisici che tra loro dicono noi di cioccolato noi di merda ma alla fine a noi al bar non ce ne può fregare di meno la scienza va avanti anche così nelle segrete stanze che riguardano il loro settore disciplinare solo i problemi scientifici che riverberano nella vita quotidiana e nell'economia escono fuori e diventano invece un dibattito come quello del fumo e c'è stato ha coinvolto la medicina negli anni 70-80 chi vendeva tabacco ha avuto interesse a screditare i medici che dicevano che faceva male e faceva venire il cancro e per anni e anni si è andati avanti a questi colpi bassi facendo finta scienza che contrastasse la paura del fumo come danno sanitario poi alla fine l'evidenza è venuta fuori e ce l'abbiamo fatta possiamo dire oggi ci sono le leggi contro il fumo e sui pacchetti di sigarette c'è la fotografia del cancro un'altra domanda che volevo farti riguarda da un punto di vista proprio formale di dialettica quale pensi sia il modo migliore per comunicare questo è veramente direi un problema al momento irrisolto nel mondo sono tantissime le strutture le persone le istituzioni che cercano un modo di efficace di comunicare questa drammatica urgenza ambientale nella quale siamo finiti siamo finiti per la inefficacia anche della comunicazione dei decenni precedenti visto che questi problemi sono ben noti almeno dagli anni 70 molto ben noti annunciati già dalla fine dell'ottocento ma analiticamente e politicamente riconosciuti direi dalla fine degli anni 70 cito anche un dato preciso per collocarli sul clima il rapporto Charney sul riscaldamento globale causato dalla CO2 fossile pubblicato dall'Accademia delle Scienze Americana nel 1979 stiamo parlando dell'Accademia delle Scienze non di un singolo ricercatore che gli viene un'idea e lo dice tutto questo tempo perso oggi ci mette in una condizione di urgenza abbiamo fatto nel frattempo tanti esperimenti fondamentalmente sono due i grandi esperimenti di comunicazione di un problema uno è l'allarmismo e l'altro è l'ottimismo l'eccessivo ottimismo l'allarmismo si dice non fa bene perché paralizza perché respinge perché in qualche modo allontana le persone dall'azione l'altra spiegazione è invece l'ottimismo aiuta ad avvicinare più persone a prendere provvedimenti in realtà non è così non è così possiamo dire in nessuno dei due casi nel senso che l'eccessivo ottimismo spinge anche a non occuparsi del problema torniamo alle sigarette che è più facile se io ti dico si fanno un po' male ma anche no ma in fondo poco ma non è grave tu cosa fai? dico beh allora continua a fumare scusa dall'altro lato se ti faccio vedere la foto del cancro dico questi sono i tuoi polmoni fra vent'anni smette di fumare subito non ha funzionato neanche quello non ha funzionato perché chi ormai è dipendente gira il pacchetto di sigarette dall'altra parte insomma fa tutto quello che può per ignorare questo messaggio gravissimo allora vuol dire che la soluzione comunicativa non c'è non c'è la bacchetta magica siamo tutti diversi tutte le persone reagiscono a stimoli differenti nel loro ambiente nel quale si trovano e probabilmente la comunicazione è un mix di tante cose ci vuole un po' di allarmismo serio documentato perché altrimenti non ti muovi anche col covid se non c'è il rischio di morire ma nessuno si impegnerebbe al distanziamento sociale a mettere la mascherina a accettare il lockdown come ci sono infatti frange di persone nel negazionismo virale che si dicono completamente al di fuori della paura del covid dicono che è tutto un complotto che non c'è poi c'è chi invece ha un eccesso di paura rimane bloccato e non fa niente e poi c'è una vasta gradualità di comportamenti di tutti noi della massa indistinta che fondamentalmente a seconda delle condizioni in cui si trova reagisce a questa paura con comportamenti più o meno rigidi lo avrai sperimentato anche tu ma l'ho sperimentato anch'io la paura di morire di covid è elevata ma la probabilità è bassa anche a me in un anno e tre e ormai in un anno e due mesi di covid c'è stato il momento che ho abbassato la guardia magari per pochi minuti e poi mi sono detto porca miseria qui potrei essere meno beccato è andata bene ma potevo prendermelo perché c'è stato un momento confuso in cui ho incontrato una persona e senza pensarci mi sono avvicinato la mascherina ce l'avevo ma era lontana non avevo voglia di tornare a prenderla in tasca me l'ero dimenticata e ho detto vabbè speriamo che mi vada bene che cosa mi avrebbe potuto invece aumentare il livello di guardia una maggior paura per esempio una frequenza di morti superiore a quelle che abbiamo avuto allora la paura sarebbe stata così elevata da tenere una soglia di prudenza più forte quindi vedi come è complicato trovare un modo per comunicare la sintesi della mia esperienza in 30 anni di comunicazione di problemi ambientali è una sana dose di paura perché è vero perché stiamo rischiando grosso ma nello stesso tempo lo spiraglio di azione per dire possiamo però agire cioè puoi fare queste cose per evitarlo non è un dire è tutto perduto quello non avrebbe senso avere solo una gran paura per una cosa che ormai è inevitabile dico beh allora sparati o ti spari o fai una grande festa finale dici ci mangiamo tutto quello che c'è e poi capiti quello che capita questo lo fai con una paura su una cosa inevitabile ho trovato ho scoperto l'asteroide che fra esattamente 12 giorni e 3 ore e 5 minuti cadrà sulla terra e ci arrostisce tutti bene ragazzi facciamo una grande festa se invece ti dico sì ma abbiamo il modo per deviarlo bisogna che ognuno di voi soffi molto forte in direzione nord tutto insieme al mio via beh allora proviamoci quindi grande paura ma anche possibilità pratiche per ridurre il danno e questa mi sembra la ricetta oggi della comunicazione dopo che hai spiegato il rischio climatico l'estinzione delle specie l'inquinamento la salute comincia a dire cosa puoi fare tu non prendere l'aereo metti i pannelli solari su casa tua mangia meno carne usa gli oggetti in modo da riciclarli e da farli durare più a lungo fai la raccolta differenziata pianta un albero ecco questa è la parte diciamo costruttiva del messaggio che va accoppiata all'altra non deve predominare né solo una né solo l'altra tanto nella tua esperienza quanto nella mia ci hanno etichettato come estremisti quando dicevamo queste cose quindi andiamo nel concreto facciamo qualcosa non prendiamo l'aereo mangiamo meno carne modifichiamo un po' le nostre abitudini e subito ci hanno etichettati come estremisti perché invece non siamo estremisti beh non siamo estremisti perché fortunatamente abbiamo il metodo razionale della scienza che ce lo dice essere estremisti vorrebbe dire interpretare una condizione della realtà esaltandola al di là dei suoi elementi reali cioè trasformandola in ideologia in settarismo in depressione alcune potrebbero essere semplicemente risposte di persone che si sentono frustrate depresse quindi in qualche modo esaltano certi tratti invece se riusciamo a mantenere l'allarme non l'allarmismo l'allarme nel binario della realtà che è corroborata da studi a milioni nel mondo cioè oggi vengono pubblicati nelle riviste scientifiche di tutto il mondo migliaia di articoli su queste crisi ambientali dal clima all'estinzione delle specie al consumo di suolo la plastica negli oceani e basta allora uniformarsi a dei dati che siano verificabili se io dico stiamo mangiando plastica devo dimostrarlo e scopre che ci sono migliaia di studi dei biologi marini che fanno l'autopsia ai pesci e dicono cavoli c'è dentro la plastica nello stomaco nel sangue le microparticelle i pezzi più grossi i pesci muoiono perché ingoiano i sacchetti di plastica e perché poi noi mangiamo questo pesce inquinato nel nostro piatto e ci ammaliamo allora è giusto essere allarmisti no? essere sì vedi che non ci sono neanche i termini lessicali corretti è giusto essere allarmati e allarmare basandosi su quei numeri mi sembra logico mi sembra razionale allora l'estremismo viene a cadere perché se io ti avverto di un pericolo e questo pericolo lo documento è stupido l'altro che non lo vuole vedere non è io non sono io che sono estremista trattandosi però purtroppo di scenari futuri c'è sempre quella margine intanto di incertezza scientifica diciamolo nessuno degli studi scientifici in qualsiasi campo è certo al 100% ma magari al 99% e purtroppo nel futuro non ci siamo ancora ma quando ci saremo se i dati ci portano a quella condizione sarà troppo tardi per agire e quindi arriva il principio di prevenzione principio di prudenza se noi abbiamo sufficienti dati per immaginare che ci portino verso una condizione ostile in futuro dobbiamo fare di tutto per prevenire esattamente come con il fumo ma mio nonno ha fumato tantissimo e è morto a 97 anni perché aveva una genetica particolarmente resistente per un nonno che fumava a 97 10 nonni non sono neanche arrivati a essere nonni sono morti a 55 ma di quelli non si parla parli solo dell'unico esempio che ti che ti dà il bias cognitivo cioè che conferma il tuo modo di pensare allora tu ti aggrappi fortemente a quello dando degli estremisti al medico che ti dice di non fumare il quale però conosce le statistiche e dice guarda che solo un nonno su mille fuma e arriva a 97 tutti gli altri muoiono prima il problema è che quando vengono comunicati questi dati numerici appunto le persone come hai detto tu si appendono alla propria opinione esatto esatto ecco perché ti dico accanto alla comunicazione importante perché deve creare consapevolezza diffusa nella società c'è un ruolo fondamentale della politica cioè se aspettiamo che certi processi crescano soltanto nella cultura della società ci vogliono secoli e probabilmente il cambiamento climatico ci ha già spazzati via prima la politica ha questo ha questa efficacia nel momento in cui la scienza riesce a convincere i leader i leader fanno provvedimenti che funzionano dalla sera alla mattina la legge contro il fumo in Italia è stata una firma su un decreto e il mattino dopo non si è più fumato se avessimo dovuto aspettare che tutte le persone lentamente acquisissero conoscenza medica comportamentale sul rischio di fumo probabilmente sarebbe ancora tutto lì come prima perché la società è fatta di tanti pezzi qualcuno molto sensibile qualcuno molto informato una grande massa indistinta e qualcuno contro la legge ha messo tutto d'accordo domani non si fuma più nei locali pubblici punto ma io qui credo io vorrei no vai a fumare fuori e il mondo da quel momento lì è migliorato quasi per tutti lo dovremmo fare anche con i problemi ambientali il clima cambia eh ma io voglio prendere l'aereo ma è no da domani il gasolio è fuori legge questo adesso sto veramente estremizzando per motivi di comunicazione la comunicazione spesso richiede delle metafore e a poco tempo e deve arrivare con un messaggio chiaro che affonda poi dopo bisogna elaborarlo nella sua complessità della del mondo reale però adesso per dirlo come metafora se il fumo fa male e lo Stato lo vieta o lo tassa così devo fare anche con un altro tipo di fumo col fumo del carbone col fumo del petrolio che farà male in modo diverso sulle generazioni future e devo avere il coraggio quindi di tassarlo o di gradualmente ridurlo e non invece mettere un primato dell'economia e del lavoro che sono sempre scuse buone per rimandare le scelte ambientali e ma porta lavoro e ma lì va tanto uccide le persone sì ma porta lavoro e allora lascio tutto così dobbiamo deciderci nei problemi ambientali che si manifesteranno nei prossimi decenni l'unico modo per prevenirli è agire oggi quando ancora non li vediamo crollare su di noi ma essendo giganteschi quando si verificano nel momento in cui emotivamente ne saremo scossi purtroppo non sarà più possibile ripararli e allora dobbiamo agire tutto sulla conoscenza e sullo stimolo emotivo attuale il che come vedi è difficilissimo perché la gente preferisce avere il tutto è subito oggi e il domani non importa meno che mai se poi riguarda le generazioni future sì io ho sempre fatto questa metafora appunto del cambiamento climatico è un po' come mettere sempre la polvere sotto al tappeto prima o poi ti ritrovi una cunetta in cui inciampi magari non è male da un punto di vista però di decisioni politiche di agenda politica volevo farti una delle ultime domande chiederti se credi che il ruolo della scienza sia in qualche modo più importante di quello delle masse in modo da influenzare l'agenda politica quindi io penso di sì io penso di sì perché le masse possono sicuramente fare delle ottime decisioni democratiche quando queste decisioni sono semplici sono decisioni dove è facile informarsi o dove addirittura ognuno di noi ha già una sostanziale visione etica molto diffusa cioè se io dovessi esprimermi con un referendum se è giusto rubare o essere onesti mi auguro che il 90% delle persone mettano una crocetta su è giusto essere onesti e rubare è sbagliato lo dicono già comandamenti che hanno migliaia di anni e sono le basi fondamentali del funzionamento di una società se invece devo dire è giusto pagare più tasse per fare i voli in aereo è un casino qui avere una risposta razionale da parte della società perché ognuno avrebbe una sua interpretazione ma io devo andare a trovare mia zia in Australia perché devo pagare di più ma non tutti vanno in giro per vacanza ma io ci devo andare per studio io voglio andare perché devo fare delle fotografie della barriera corallina che mi interessa per salvarla sì ma mentre per salvarla in realtà la uccidi volando ti dice la scienza perché hai fatto la CO2 ci sarebbe un coacervo di visioni personali tutte potenzialmente giuste e tutte potenzialmente sbagliate il risultato di una scelta della società di questo genere probabilmente non arriva là dove deve arrivare secondo la scienza allora la scienza ti dice hai tanti rischi hai tanti mali puoi fare delle scelte puoi minimizzare il rischio e il male anche sociale anche economico ma alla fine i numeri sono questi qui se vai in Australia andate e ritorno e metti due tonnellate di CO2 per persona se tra le due cose la gente dice ma io sono verde perché chiudo il rubinetto mentre mi lavo i denti però vado in Australia con l'aereo e mi spiace vince cento a uno il volo contro il rubinetto il rubinetto ti avrà fatto risparmiare due o tre grammi di CO2 perché c'è meno energia nell'acqua che è stata potabilizzata pompata e invece il volo è dove veramente ottieni il risultato di essere più sostenibile ma è un processo così lento che è molto meglio che io scienziato vada dal governo e dica senti vuoi salvare il clima del tuo paese delle tue cittadini fra vent'anni quando avrai un uragano al giorno se non facciamo niente che ti tira giù le città crea morte danni economici allora per farlo devi tassare la CO2 delle macchine e degli aerei i cittadini saranno scontenti forse non capiranno all'inizio ma come facciamo in tanti altri settori eseguiranno perché tu farai una buona legge e questo però è efficace il giorno dopo gli effetti ci sono tutti mugugneranno ognuno avrà la sua visione ma non accade già ogni giorno con le altre cose il lockdown tutti abbiamo mugugnato però l'abbiamo trangugiato perché sfaventati dal covid la sicurezza della macchina la paghiamo tutti ma che palle spendere ogni anno 500.000 euro per niente per niente non mi torno a casa niente eh ma se hai un incidente eh ma tanto a me non capita più o meno tutti ragioniamo così quando è il momento di pagare il premio dell'assicurazione però l'analisi razionale ti dice che se hai un incidente i danni almeno non ricadono su di te o si quello che li ha fatti ma su una struttura che è in grado di pagarteli e allora dal punto di vista razionale tutti noi accettiamo di pagare ogni anno il premio dell'assicurazione e speriamo di non avere mai un incidente di non doverlo mai usare vedi come alla fine però questo non può imporre solo la legge in una società senza una struttura sociale nessuno di noi farebbe l'assicurazione volontariamente e l'ultima domanda che ti faccio qual è appunto ricollegandomi a questo discorso qual è l'ostacolo principale per la decisione politica per i decisori politici di effettivamente attuare queste queste decisioni due uno è il consenso i decisori politici di paesi democratici ovviamente sono eletti da un consenso popolare e queste cose purtroppo fanno poco consenso soprattutto in una società poco informata se io devo mettere nuove tasse per non farti volare a fare le vacanze in Australia la prossima volta non ti voto più semplice e allora io anche se sono convinto che è una cosa importante tergiverso dico sì è vero può darsi ma intanto non lo faccio vedi la legge contro il consumo di suolo in Italia tutti sono convinti che la cementificazione è un problema ma la legge è quasi dieci anni ferma in Parlamento e nessuna forza politica la vuole firmare perché perché tutti gli italiani più o meno proprietari di un pezzetto di terra sognano piuttosto di costruirci una casa sopra che di tenerlo alla biodiversità per la biodiversità il secondo tema è la pressione politica che si sovrappone a un'attitudine sociale già c'è poco consenso in più ci sarà chi vende il cherosene e la compagnia aerea che andranno a fare pressione al governo per dire oh vuoi mica mettere la tassa per il volo e che poi io devo chiudere ci saranno gli aeroporti che diranno e io e poi c'è meno gente che vola e anche i negozi che sono dentro gli aeroporti non guadagneranno più tutti questi si uniranno in lobby e andranno a fare pressioni parlamentari per dire no non votate quella legge per mettere la tassa sul volo a lunga distanza per dirne una oppure non votate la legge sul suolo perché interverranno gli immobiliaristi i produttori di cemento ognuno dire eh ma poi allora io non ne vendo più sarò danneggiato non farla così purtroppo si rimandano continuamente le scelte fondamentali per la sostenibilità ambientale bene io direi che siamo giunti al termine perché hai dato davvero delle risposte interessantissime una visione sulla comunicazione e sulla sostenibilità davvero interessanti quindi voglio ringraziarti per la tua partecipazione ancora una volta e io chiedo a voi di trovare con fantasia nuove soluzioni perché nella comunicazione non le abbiamo ancora trovate quindi c'è tanta strada da percorrere magari insieme ai colleghi che si occupano di psicologia sociale di sociologia e di antropologia cioè abbiamo bisogno di queste scienze umane che ci spiegano in modo più analitico il comportamento delle persone di fronte agli avvertimenti di questo genere è stato un piacere parlare bene grazie a voi per l'interesse ti ringraziamo tantissimo e buona fortuna grazie mille